Grazie, buonasera a tutti. Allora io andrò più rapidamente possibile nel tratteggiare i contenuti essenziali delle cose che trovate nella pubblicazione che sono il frutto del lavoro mio e della mia collega Anna Romiti ma soprattutto sono il frutto del lavoro che abbiamo fatto insieme ai direttori generali di Fiaso in questo anno. E sono il frutto, mi fa piacere ricordarlo, sono anche il frutto dell'intuizione di Giovanni Monchiero quando abbiamo iniziato questo percorso di riflessione e le bacchettate che mi sono preso sulle visioni aziendali. Io che dovevo essere aziendalista mi sono peccato le bacchettate di Giovanni Monchiero su questo e di questo spero di aver fatto tesoro. Da dove siamo partiti? Vado telegraficamente. La prima cosa che ci preme di dire è che noi viviamo in un momento di centralizzazione di quello che viene chiamato il ritorno al centro che non è un tema solo italiano, è un tema generale, internazionale ed è un tema che attraversa tutta la pubblica amministrazione. Una serie di fenomeni che sono la crisi, in qualche maniera la fine del periodo eroico del new public management, cioè della devoluzione ai manager di ampi spazi decisionali ha provocato quello che viene qui proprio detto The Center Strikes Back. Il secondo elemento è che probabilmente, ed è un nostro auspicio, è che tutte queste riforme che stanno attraversando i sistemi pubblici sanitari italiani in particolari dovrebbero essere viste, secondo una lezione di un grande studioso americano, come degli esperimenti e non come delle soluzioni. Questo perché abbiamo dei problemi talmente grandi e le riforme, il modello toscano, il modello lombardo, il modello emiliano-romagnolo, quello che volete, sono tentativi di dare risposta a problemi che spesso sono più grandi di noi e come tali dovrebbero essere considerati. E quindi è un invito a tenere, diciamo, aperto, piuttosto che contrapporre una soluzione a un'altra e dire, beh, stiamo sperimentando, cerchiamo di migliorare strada facendo. E che in questo migliorare strada facendo forse bisogna ricordarsi da dove siamo partiti perché il tema della memoria delle mappe concettuali è importante. E proprio da questo punto di vista nella pubblicazione ho trovato alcune riflessioni sul modello aziendale, cioè da dove siamo partiti. E ricordo a tutti quanti noi che il modello aziendale era un tentativo di separare meglio di quanto non fosse nei comitati di gestione la politica dall'amministrazione, con tema classico del public management, attraverso la creazione di una soluzione italiana che rimane molto peculiare, che è il tema dell'aziendalizzazione, pur in uno spazio fortemente segnato dal pubblico. Questo rapporto tra autonomia delle aziende e, come dire, primato della politica che comunque doveva rimanere, era risolto tramite l'azienda come costruzione, cioè quindi l'azienda, l'ha già ricordato Francesco Ripa di Meana, che aveva questa duplice funzione da una parte di governare la complessità interna, quindi la complessità dei processi produttivi, ma dall'altra di rappresentare il punto di snodo del contemperamento degli interessi che sull'azienda convergevano, quindi sul fatto che a quell'azienda veniva data insieme una funzione istituzionale e una funzione più strettamente manageriale. E questo veniva un po' risolto tramite appunto questo che lì viene definito come uno spazio tra regione e azienda, cioè nel senso che il modello di funzionamento era un modello nel quale tra regione e azienda c'era uno spazio libero tra le politiche regionali, tra le capacità di influenza delle regioni e le specifiche decisioni aziendali, in questo spazio si muoveva l'autonomia delle aziende. Quello che sta succedendo, se vogliamo fare una sintesi eroica, sono sostanzialmente due cose. L'inserimento di enti intermedi, cioè il fatto che quello spazio, che era uno spazio vuoto tra la regione, cioè tra il livello politico e il sistema aziendale, si va riempendo di entità che in qualche maniera occupano uno spazio che era uno spazio riservato all'autonomia delle aziende e dall'altra parte il fatto che noi abbiamo dei processi molto violenti di accentramento. Per intenderci l'accentramento c'è sempre stato, c'è la concentrazione delle aziende, ma se prendiamo negli ultimi 3-4 anni questo processo ha subito una brusca accelerazione. Quindi in tutte le regioni noi abbiamo fenomeni di concentrazione tra le aziende. Gli enti intermedi sono di vario tipo e natura, qui abbiamo provato a dire che un ente intermedio può fare come l'Estar in Toscana, semplicemente un po' diminutivo, ma insomma l'intermediazione delle risorse, se può diventare con una prevalente enfasi di tipo efficientistico manageriale, chiamiamolo così, oppure può essere come nel caso dell'ATS Lombarda, l'intermedio può essere affidato delle funzioni che sono essenzialmente di governo, prevalentemente di governo e quindi di costituzione di una sorta di capogruppo di una holding di aziende pubbliche. L'azienda Zero in Veneto, ma è uguale a Lisa in Liguria, definiscono proprio la capogruppo di una holding che produce sia capacità di governo strategico sia produzione di servizi centralizzati per il sistema. Rimangono ancora tracce di enti che fanno, diciamo, semplicemente anche il supporto alle funzioni di governo, le classiche agenzie di studio e ricerca che in qualche maniera aiutano. Ma qui il tema fondamentale è che laddove c'è uno spazio vuoto, questo spazio si va popolando, raccordando il livello politico-istituzionale che era assessore della regione, l'assessorato, col livello aziendale. Il secondo elemento, lo conoscete tutti, è l'accentramento. Dove questo accentramento, qui avete i casi estremi di chi come la Sardegna è passato, ha replicato le scelte che una volta avevano fatti i marchigiani pur, diciamo, con alcune caveat. E il caso toscano, insomma, dove siamo arrivati a macroaziende. tenete conto, insomma, che noi arriviamo ad aziende che hanno qualcosa come 11.000 dipendenti, cioè il che produce, come potete ben immaginare, uno stress manageriale non da poco, cambiando in qualche misura la natura del sistema aziendale, perché lì siamo di fronte sostanzialmente a una sub-regione più che a un'azienda ampia. E qui vedete i numeri di quello che è avvenuto. Una prima riflessione è che noi in questa cavalcata di questi 30 anni ci siamo ritrovati a partire da un'azienda, che era l'azienda del 502, e siamo arrivati a una pluralità di aziende. Noi chiamiamo aziende entità che svolgono delle funzioni completamente diverse. A partire da questa distinzione tra aziende che erogano servizi e aziende che non erogano servizi, e poi con altre possibilità di distinzione. Qui il punto che noi poniamo è che di fronte alla varietà di questi modelli aziendali, che è appunto che per stare nel perimetro istituzionale noi chiamiamo aziende, se non ci sono state una coerente differenziazione dei modelli di governance. Un po', lo dico spesso, un po' come se fossimo partiti con una SRL e che usiamo l'SRL per la piccola azienda da 10 dipendenti e quella da 100.000. Insomma, le forme di governo o le forme aziendali in qualche maniera dovrebbero rispecchiare la varietà delle funzioni e le varietà delle condizioni di funzionamento. E quindi bisognerà, forse in un futuro, in quello che Francesco Ripa definisce un tagliando del sistema, iniziare a interrogarsi se possiamo ancora avere un modello di azienda o se dobbiamo prendere atto che le aziende, che possiamo avere diversi modelli di azienda. E quindi anche da un punto di vista, diciamo, tecnico, giuridico e istituzionale produrre una varietà che potrebbe aiutarci a governare meglio il sistema. Se noi guardiamo quello che sta avvenendo in una prospettiva segnatamente aziendale, tre punti sono quelli fondamentali. Struttura e funzionamento dei sistemi dei gruppi pubblici, cioè nel senso che noi siamo passati da aziende autonomi che si confrontavano con il livello politico e istituzionale, alla strutturazione di vere e proprie holding regionali. Ancora una volta, avviene un po' dappertutto, ma gli esempi più evidenti, dove vedete più plasticamente, sono il Veneto e la Liguria, dove davvero noi lì abbiamo una configurazione da gruppo pubblico. Abbiamo un secondo tema, che è come facciamo a far funzionare aziende, come facciamo a superare o a tenere conto del fatto che un'azienda da 3.000 dipendenti è completamente diversa da un'azienda da 11.000 e che quindi forse le logiche di governo e di strutturazione interna vanno ripensate. E voi sapete meglio di me che anche le logiche di struttura e di funzionamento interno sono fortemente segnate dal contesto giuridico normativo. Lo dico qua perché in questi luoghi si producono gli assetti istituzionali di fondo. E il terzo elemento è che se forse non vale la pena piuttosto che perseguire, soprattutto in alcune regioni, a più debole cultura manageriale, piuttosto che perseguire la strada delle fusioni alla ricerca di economie di scala, se non vale la pena riprendere decisamente in mano il tema della collaborazione fra aziende, delle condizioni che possono aiutare le aziende a mettere in comune processi produttivi pur mantenendo la loro capacità di rappresentare i contesti locali e di avere delle razionalità di carattere locale. Dico alcune cose su questi tre punti. La prima sul tema delle holding. Il tema delle holding è un tema molto complicato perché bisogna far convivere la gerarchia e la disciplina di una holding con l'autonomia delle aziende perché se non facciamo quell'operazione una delle due non sta in piedi insomma. E allora questo nei contesti privati qualcuno potrebbe dire se io prendo i grandi conglomerati privati non c'è limite alla capacità di costruire e di gerarchizzare delle autonomie cioè capacità di mettere insieme imprese in grandi gruppi. Certo è che nel pubblico questa operazione non è un'operazione semplice perché prevaggono concezioni dell'autonomia di natura politico-istituzionale detto in altri termini i direttori generali ragionano molto come un sindaco di un comune il quale può accettare di essere coordinato dalla regione ma la sua autonomia è originaria e che quindi non fa parte. Costruire una cultura di gruppo e meccanismi di gruppo sarà una sfida per i prossimi anni. Questo comporta anche un tema della governance della holding con il tema della collegialità o come una holding possa in qualche maniera rappresentare nelle sue forme di governo anche le esperienze delle singole aziende. Ma questo è un terzo punto molto delicato perché dice che forse bisognerebbe ripensare perché una cosa è il rapporto tra una direzione generale e un'azienda e un'altra cosa è un rapporto tra un presidente di regione e il direttore generale di una holding. perché questo verticalizza ancora di più la politica e toglie alcuni cuscinetti nel rapporto tra politica e amministrazione che erano storicamente presenti nel modello degli assessorati. E poi abbiamo un problema che forse è più manageriale e più maneggevole e come riallocare le funzioni a diversi livelli della holding perché noi avremo di fronte il tema se gli acquisti li facciamo centralizzati o no ma quello l'abbiamo già risolto se la gestione del personale la facciamo centralizzato o meno che cosa tiriamo su a livello di holding e che cosa invece teniamo a livello di aziende. Il tema delle aziende è che noi abbiamo oggi delle aziende a dimensioni completamente diverse continuiamo a chiamare aziende qualcosa da 200.000 persone fino a un milione di abitanti qualcosa che sta nei 300 milioni di bilancio fino a più di un miliardo di bilancio. Allora qui il punto su cui noi invitiamo a riflettere è il seguente il fatto che noi aboliamo o togliamo delle aziende dove prima c'era un direttore generale le facciamo confluire in aziende più grandi non toglie nulla, fa bisogno di management cioè la complessità che deve essere dominata e quindi se prima c'era un direttore generale adesso ci vuole all'interno di un sistema aziendale qualcuno che faccia più o meno la stessa cosa e il punto che noi imponiamo è che quel qualcuno che fa le stesse cose che faceva un direttore generale pur non essendo un direttore generale bisogna capire chi è e come lo fa e chi è e come lo fa cioè quindi in un'azienda che è il frutto di una fusione di quattro aziende che venivano governate da quattro direttori generali chi supplisce, chi tiene quella complessità e qui questo ci pone il tema delle linee intermedie cioè del middle management del raccordo tra un direttore generale che sta, lo dico sempre che sta, che ne so io, ad Arezzo e poi l'ospedale che sta al confine con Lazio cioè quella distanza che è una distanza fisica è una distanza organizzativa in organizzazioni che sono abituate ad essere tipicamente piatte perché i professionisti vogliono vedere e toccare il direttore generale come facciamo noi a costruire quella linea intermedia le risposte sono state molto diverse adesso sarebbe lungo insomma abbiamo provato anche a costruire degli staff e ci siamo riusciti per dominare questa complessità ma ormai siamo arrivati al punto che a quelle dimensioni il tema dei dipartimenti e dei distretti non può essere più eluso ed è un problema quasi intrattabile perché noi ci rimangono ancora dei manager che hanno quelli che vengono normalmente in letteratura chiamati dei ruoli ibridi perché a dirigere un dipartimento medico ci sta magari un internista che tutto sommato è un manager riluttante perché non è il suo lavoro e quindi come facciamo a rafforzare quel livello posto che prima quel direttore di dipartimento coordinava 10 unità operative adesso ne è chiamato a rispondere il funzionamento di 50 unità operative che magari sono distante di 300 km l'uno dall'altro in aziende dove facciamo fatica a moltiplicare i livelli di responsabilità intermedia in senso verticale perché più di due livelli si fa fatica a mettere e questo sarà un problema e indichiamo alcune riflessioni che vuol dire rafforzamento di questi se non addirittura iniziare a ragionare come se questi dipartimenti fossero delle mini aziende e iniziare a costruire dei livelli di autonomia adeguati l'ultimo punto e finisco è quello delle collaborazioni e delle fusioni qui insieme ai miei colleghi abbiamo studiato alcuni processi che sono tra le collaborazioni e le fusioni tenendo conto che una cosa è lo shock istituzionale che alcune regioni hanno fatto un'altra cosa sono i percorsi di accompagnamento perché fermo restando che ogni regione è libera poi di fare l'accorpamento bisognerà pur riflettere se il modo migliore per far collaborare delle aziende sia quello di imporre uno shock istituzionale o quello di accompagnare dei processi dal basso di diffusione e in ogni caso se noi riuscissimo ad avere delle forme di collaborazione senza macro istituzioni forse tutto sarebbe più semplice da governare l'ultima cosa è che noi abbiamo diciamo nel modello aziendale abbiamo tenuto insieme temi diversi che sono un assetto istituzionale cioè la scelta delle aziende il sistema aziendale con le sue autonomie è il management cioè il problema delle aziende aziende e management stavano insieme probabilmente oggi noi siamo costretti a pensare separatamente i problemi manageriali da quelli aziendali perché l'evoluzione istituzionale sta andando in una certa direzione ora è chiaro che il futuro come dire noi non pensiamo che dipenderà dalle scelte istituzionali dipenderà da molte cose e ognuno deve fare la sua parte la sua parte vuol dire che da qualche parte il disegno andrà fatto e da questo punto di vista le regioni forse qualche riflessione in più dovrebbero farlo ci saranno le contingenze ci sarà il ruolo del disegno normativo che le istituzioni dovranno porsi ma soprattutto credo che ci sia la possibilità del management e credo che questo era il messaggio che forse Fiaso ha sottolineato di più la capacità del management di dare gambe a questi cambiamenti se appena gliene si offre l'occasione grazie 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 a tutti grazie a tutti grazie a tutti